Buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Ricorrono oggi 55 anni dalla tragedia del Vaillant, giornata dedicata al ricordo delle vittime. Stamattina alle 11.30 nella chiesetta sulla diga d'Erto si svolta la cerimonia ricordo delle vittime di una tragedia che continua a distanza di tanti anni ancora a provocare dolore. Nessuno può dimenticare quello che successe esattamente 55 anni fa. Fu un disastro senza precedenti, quello del Vaillant, la cui memoria si racchiude oggi nel ricordo di questo doloroso anniversario. Alle ore 22.39 del 9 ottobre del 1963, circa 270 milioni di metri cubi di roccia provenienti dal monte Toc scivolarono, alla velocità di 108 km all'ora, nelle sottostanti acque del bacino lacustre alpino creato dalla diga del Vaillant, provocando un'onda che superò di 250 metri in altezza il coronamento della diga. L'onda generata si divise in due, una parte risalì il versante opposto distruggendo tutti gli abitati lungo le sponde del lago nel comune di Erto e Casso e l'altra lo scavalcò riversandosi nella valle del Piave, distruggendo quasi completamente il paese di Longarone, dove fece il numero più elevato di vittime. I morti furono in totale 1917, ma vennero recuperati solo 1.500 cadaveri, di cui 450 a Longarone, 109 a Codissago e Castellavazzo, 158 a Erto e Casso e 200 originari di altri comuni. Una delle questioni maggiormente controverse della vicenda riguardò le cause della tragedia e la sua prevedibilità. Sotto accusa i progettisti e dirigenti della Sade, i quali occultarono e coprirono la non idoneità dei versanti del bacino. Il versante da dove si staccò la frana aveva note caratteristiche di instabilità, che i tecnici della Sade ritenevano fossero franamenti di scarsa entità. Oltre mezzo secolo dopo, le comunità colpite della tragedia, Vaillont, Erto e Casso e Longarone, continuano ad alimentare il ricordo e si stanno pian piano rianvicinando dopo i grandi contrasti passati. In questa occasione messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A 55 anni l'Italia non dimentica le vite spezzate, l'immane dolore dei parenti e dei sopravvissuti, la sconvolgente devastazione del territorio e anche i tormenti delle comunità colpite. Neppure può dimenticare che così tante morti e distruzioni potevano e dovevano essere evitate. In questo giorno, scrive ancora Mattarella, il primo pensiero va alle vittime, ai corpi straziati, molti dei quali mai ritrovati. Mentre ci inchiniamo nel ricordo, la Repubblica rinnova vicinanza e solidarietà ai familiari, agli amici, a tutti coloro che videro cancellare di colpo la loro casa e il loro ambiente, a chi ha convissuto a lungo con il dolore e la paura. Il Parlamento italiano conclude la nota, ha deciso di istituire proprio il 9 ottobre la giornata nazionale ai memori delle vittime e dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. E questo disastro, oltre a conire il paese nel raccoglimento e nel ricordo, sollecita un'assunzione di responsabilità. Nostro dovere ricordare sempre ai nostri figli che il 9 ottobre del 63 interi paesi vennero cancellati dalla faccia della terra, uccidendo 1917 persone, tra le quali 487 bambini, vittime della cupidige e della follia umana. Una preghiera per non dimenticare mai, lo scrive sui Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Finì tutto nell'oblio perché quello del Vajonte fu un genocidio dei poveri, come ha scritto Tina Merlin. Questo ha detto a Lanza lo scrittore Mauro Corona. Grazie a Paolino e al suo spettacolo, dopo decenni di silenzio, la storia venne riscoperta e da lì venne l'idea di andare a vedere la morte, solo che le visite le faceva la gente normale che aveva saputo di questa immane tragedia. Non certo i politici, vorrei, conclude Corona, che questo anniversario venisse finalmente un rappresentante dello Stato, che sia Salvini, che sia Di Maio, chiunque vorrei che venissero a chiederci scusa. La conservazione della memoria è il primo passo per evitare ripetersi delle tragedie. In questo doloroso anniversario la mia preghiera va a chi ha perso la vita e il mio commosso pensiero a chi ha saputo risollevarsi con la dignità propria delle nostre genti. Questo invece è il messaggio postato dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commemorando i 55 anni della tragedia del Vajonte. E voltiamo pagina. I vigili del fuoco di Spilimbergo e quelli della squadra Speleo Alpino Fluviale di Pordenone hanno soccorso quattro cerve che erano finite dentro a un canale di irrigazione vicino all'azienda Friul Kiwi, a Rauscedo, a San Giorgio della Rikinvelda. A segnalare la presenza degli animali alcuni passanti e cacciatori, le cerve avrebbero potuto morire per sfinimento, tentando di uscire dal canale o per ipotermia perché l'acqua è molto fredda, sono state prese al laccio e poi liberate dai pompieri. Tenta di trafugare soldi e beni di valore da un'abitazione di Polcenigo e poi fugge in sella a una bici rubata quando il padrone lo scopre con le mani nel sacco. L'uomo chiama i carabinieri che arrestano il malvivente Federico Chiaradia, 38enne, pregiudicato di Polcenigo, poi rimesso in libertà. La bici, un'atala, è stata sequestrata. Chi la riconosce può chiamare i carabinieri di Polcenigo. Ho ritenuto doveroso svolgere a Sappada per la prima volta la seduta della Commissione delle Minoranze di Lingua Tedesca in Friuli Venezia Giulia per festeggere il passaggio del Comune alla nostra Regione. Così l'assessore Roberti sulla Commissione che ha espresso partiti favorevoli al bando che mette a disposizione 180 mila euro per progetti di tutela delle minoranze linguistiche. Assessore, primo incontro qui a Sappada con la Commissione per la tutela delle lingue minoritarie. Com'è andato l'incontro? L'incontro è stato positivo. Sono stati espressi due pareri entrambi favorevoli. Uno sulle modifiche alla legge 20 che riguarda le lingue minoritarie, la lingua germanofona in particolare. E uno sul bando che è stato approvato, un bando che mette a disposizione 180 mila euro in progetti di valorizzazione per la lingua tedesca. dei progetti fondamentali per una Regione come Friuli Venezia Giulia che è così ricca non soltanto di territori diversi, di ambienti e di panorami diversi ma anche di identità fortemente diverse. Quindi dal tedesco ma anche al friulano, allo sloveno, presenti sul nostro territorio che rappresentano delle forti identità. Per la prima volta qui a Sappada? Sì, per la prima volta qui a Sappada ho voluto fissare questo incontro a Sappada proprio per festeggiare l'ingresso di Sappada nel Friuli Venezia Giulia e anche l'accesso per la prima volta di Sappada a questi fondi di valorizzazione dell'identità tedesca. Enti locali sempre più con l'acqua alla gola. Per la gestione del personale arriva un appello per una riforma urgente del settore. Vediamo. Sindaco Bullian, situazione molto particolare per gli enti locali. Voi da Turiaco denunciate una situazione frammentaria? Dal punto di vista del personale e della gestione dello stesso la situazione è da diversi anni piuttosto complessa. Ad esempio le UTI non sono riuscite a decollare come realtà aggrattirice degli enti locali e quindi tutta una serie di convenzioni che riguardano anche il personale al fine di gestire al meglio i servizi sono state di fatto sviluppate fuori da Lutti. Ad esempio abbiamo delle convenzioni con il comune di Mitrofo di St. Pierre per quanto riguarda la polizia locale, per quanto riguarda l'ufficio tecnico. Adesso stiamo dando una mano per quanto riguarda l'ufficio dei servizi demografici al comune di San Canzian. Il comune di San Canzian è con noi invece capofilia con una convenzione sul servizio finanziario, sul servizio tributario oltre che sulla vigilanza. Convenzioni che scadranno a fine anno e abbiamo in mente e siamo in parola con il comune di Sagrado di attivare una nuova convenzione di ragioneria, ufficio tributi e servizi generali. È una situazione davvero frammentata che non consente una serena programmazione a medio periodo per quanto riguarda la gestione del personale. Sicuramente una riforma appare necessaria in questo campo. E ora parliamo della venticinquesima edizione del premio letterario La Tisana per il Nord-Est. Claudia Grendele, veronese, con Eravamo tutti vivi, edito da Marsilio per la sezione Opera Prima. Goran Voinovic, sloveno, con Jugoslavia Terra Mia, edito da Forum per la sezione Narrativa. E Marco Balzano, milanese, con Resto qui, edito da Inaudi per la sezione Giuria del Territorio, sono i vincitori della venticinquesima edizione del premio letterario La Tisana per il Nord-Est. Gara istituita nel 1994 per scrittori ed autori di opere di narrativa ambientate nelle aree geografiche di Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Alto Adige e dal 2012 pure a quelli di Austria, Slovenia e Croazia. Un concorso letterario che con gli anni ha saputo accreditarci prestigio tanto da diventare un punto di riferimento culturale per Friuli, Venezia Giulia e non solo in quello che ad oggi è un concreto dialogo interculturale che conferisce alla manifestazione un respiro biteleuropeo. Al Teatro Odeon, dove si è svolta la proclamazione dei vincitori, Patrizio Roversi, conduttore televisivo con letture di Davide Riondino, attore, recista e scrittore, hanno ribadito a più riprese gli accrediti acquisiti da questa manifestazione alla presenza dei finalisti delle tre sezioni opera prima, narrativa e giuria del territorio, con le rispettive giurie presiedute da Cristina Benussi e Massimo De Bortoli in un teatro gremito. Sull'edizione 25 appena mandata in archivio con nomi di grande livello nel panorama culturale e giornalistico italiano. Sempre il Teatro Odeon aveva ospitato il 10 settembre un'anteprima condotta da Andrea Mercù e Pietro Spirito con affabulazione di Angelo Floromo, direttore della Biblioteca Guarneriana sui 25 anni del concorso letterario, ed interviste di Dario Vergassola, noto comico, cantautore ed umorista, con i personaggi ad esso legati. Con una mostra che sarà aperta fino all'11 novembre arriva fino a Roma la storia del cantiere navale di Monfalcone. È stata inaugurata domenica 30 settembre con l'intervento del direttore del Museo Storico dell'Aeronautica Militare, dei rappresentanti dell'Associazione dei Triestini e Goriziani in Roma e dal Consorzio Culturale del Monfalconese la mostra Oltre le Nuvole, aviatori italiani nella Prima Guerra Mondiale dall'album di Giovanni Cividini. Eccezionale l'ambientazione della ricca selezione di ingrandimenti fotografici realizzati dalla Fototeca del Consorzio Culturale, l'hangar throster in cui sono esposti alcuni degli aeroplani utilizzati durante il primo conflitto mondiale. Una collocazione efficace frutto dei contatti aviati da tempo con l'Associazione dei Triestini e Goriziani in Roma e con la direzione del Museo Storico dell'Aeronautica di Vigna di Valle a Roma, con il quale il Consorzio Culturale del Monfalconese conta di avviare un rapporto di collaborazione e di particolare interesse, anche in considerazione della presenza nel museo dell'unico Kant Z506 costruito nel cantiere di Monfalcone ancora esistente. In Giovanni Cividini il Consorzio Culturale del Monfalconese si è imbattuto studiando le vicende del cantiere navale e di Cividini l'imponente opera di documentazione delle attività produttive e sociali dell'azienda monfalconese tra il 20 e il 50. Di questo breve periodo di attività di Cividini durante il primo conflitto mondiale, il Consorzio Culturale conserva anche alcuni negativi su vetro e pellicola piana. La mostra, una delle ultime iniziative del Consorzio in programma in occasione della conclusione del centenario della Grande Guerra, rimarrà aperta a Vigna di Valle fino al prossimo 11 novembre. Prendere il via domani sera alle 20 su tutti i campi della Regione per arrivare poi fino a domenica con le finalissime il Festival Boccistico Internazionale Sport e Solidarietà organizzato per la ventunesima volta nell'ambito dei festeggiamenti di San Simone a Codroipo. parteciperanno 46 squadre maschili per 184 atleti e 31 terne femminili, ovvero 93 polsi rosa provenienti da tutta Italia e dall'estero. Gareggeranno anche 64 atleti special Olympics. Le finalissime si disputeranno al Palabocce di Rivignano. Premiazioni invece alla caserma del quinto reggimento Lanceri di Novara a Codroipo. Il nostro telegiornale termina qui ma vi aspetto tra qualche minuto con a voi la linea e con collegamenti da Udine, da Pordenone per le giornate del cinema muto e anche da Re Manzacco. State con noi a tra poco. State con noi a Codroipo. State con noi a Codroipo.